Acqua dura o acqua morbida? Ebbene, andiamo a capire questo dilemma incredibile. Io sono Francesco di Fish OK e andiamo a scoprirlo assieme, dai! Beh ragazzi, spesso e volentieri ci viene indicato nei negozi in giro, ecco ma il tuo acquario è un acquario di acqua dura o di acqua morbida? I pesci che stai cercando sono di acqua dura o di acqua morbida? E allora lì ecco si va un po' in confusione. Di che cosa stiamo parlando? In realtà ragazzi quando parliamo della durezza, cioè se l'acqua è dura o morbida, stiamo parlando della quantità di sali minerali disciolti nell'acqua e principalmente di calcio e magnesio. Quindi quando l'acqua ha una quantità di sali minerali, calcio e magnesio dicevamo molto elevata e normalmente la durezza viene misurata in gradi tedeschi dh, quindi quando supera i 12 gradi di dh o i 200 ppm, quindi una quantità di parti per milioni di sali minerali, ok, chiaramente può essere definita dura. L'acqua morbida invece ragazzi può avere una durezza totale di gh e un dh inferiore a 12. Quindi abbiamo detto superiore a 12 di dh acqua dura, inferiore a 12 acqua morbida. Esistono anche sottolivelli e sopra livelli di dh, ok? Quindi c'è l'acqua supertenera sotto a 6 dh, l'acqua intermedia a 8 e a 12 stiamo parlando già di un'acqua tenera al limite, ok? E così via. Un altro importante parametro nel definire l'acqua dura o acqua morbida è il valore della durezza carbonatica che si evince con il simbolo della KH, è importante per definire l'alcalinità dell'acqua, quindi tende a influenzare il pH, non la famosa acidità dell'acqua, quindi una durezza carbonatica va a misurare la concentrazione di ioni di carbonato o di bicarbonato, va bene? Ed è molto importante anche questo parametro tenerlo presente. Quindi ragazzi un KH tra 3 e 8 gradi è generalmente definito un KH ideale, va bene? Quindi tenete presente che nell'ambito e che andate a utilizzare degli strumenti di misurazione, trovate dei range differenti, molto differenti, andate a modificarli. Ma è qui ragazzi che voglio farvi passare la noia di questa barba conoscitiva e informativa sull'acqua dura e l'acqua morbida. Come fare e cosa fare per poter andare a influenzare la durezza carbonatica, ok? Perché a sua volta abbiamo detto che influenza anche il valore del pH, che è un range molto molto importante. Ok, se vogliamo aumentare la durezza carbonatica ragazzi, possiamo utilizzare diverse metodologie, per esempio una piccolissima quantità di bicarbonato di sodio, per esempio, nelle giuste quantità in base al numero dei litri di acqua, non esageriamo mi raccomando. Dei sali minerali o buffer alcalini vengono si chiamati, per esempio come il nostro Sanisalt, non voglio farvi il pippone del nostro prodotto, ma non le farò certamente di altre aziende. Per esempio il Sanisalt, che è un buffer alcalino, va ad influenzare la durezza carbonatica laddove fosse troppo bassa, perché abbiamo bisogno di una durezza carbonatica molto alta, per avere a sua volta un pH alto. Vedi per esempio in acquari cosiddetti di acqua fredda, non so, che ospitano il golficio, o acquari e vasche biotopo dei grandi laghi africani, con i cosiddetti cicli di africani, ok? Lì abbiamo bisogno di andare ad aumentare la durezza carbonatica con gli strumenti e le metodologie che vi ho appena detto. Al contrario invece, quando vogliamo abbassare la durezza carbonatica e quindi di conseguenza anche il pH, ragazzi esistono un paio di vie, ok? Uno è l'utilizzo per esempio dell'acqua osmosi. L'acqua osmosi che sapete è un'acqua priva di sali minerali, più è importante l'impianto osmosi, più è performante l'impianto osmosi del rivenditore a voi più vicino, meno sali minerali e in particolare di carbonato di calcio avranno al loro interno. Quindi potendo tagliare con acqua osmosi avrete un abbassamento della durezza carbonatica e quindi andare ad abbassare anche il pH sotto a un range del 7 o portarlo al 7 che è quello neutro ideale per tutti i pesci. Un altro metodo naturale per esempio è utilizzare degli acidi organici, non so, tipo la torba, quindi si può mettere delle piccole panette di torba o delle foglie di catappa, insomma a livello naturale si può anche intervenire per abbassare la durezza carbonatica o anche, ecco ragazzi, esistono dei prodotti chimici che tendono ad abbassare quella che è la durezza carbonatica indirettamente, quindi anche il pH tipo pH no problem della nostra linea fish ok, va bene? In conclusione vi voglio lasciare un input molto molto importante dal nostro punto di vista. Ragazzi nel mondo fish ok, nei negozi fish ok che ormai sono numerosissimi in tutta Italia, il nome fish ok è un nome dedicato a pesci buoni, ma pesci buoni non solo per il loro grado di qualità della bellezza e dei ceppi riproduttivi, ma anche e soprattutto perché noi utilizziamo nel mondo fish ok pesci da allevamenti di acqua dura, ok? Questa è una magia, è molto molto importante perché così non dovrete andare a fare i piccoli chimici, non dovete fare tagli importanti per abbassare la durezza carbonatica di cui abbiamo parlato prima, perché questi pesci nascono, crescono e vengono allevati in acqua dura, va bene? E' chiaro, postilla, apro e chiudo parentesi, vogliamo andare a fare la riproduzione dei discus di determinate varietà di microgeofagus o tante altre varietà di pesci particolarissimi, dobbiamo tornare ai valori esatti della natura, ok? Quindi pH giusto, KH giusto e DH giusto, va bene? Ragazzi, spero di non avervi annoiato, anzi di avervi dato delle giuste informazioni per coloro che vogliono approfondire il mondo della coreologia, ma soprattutto spero abbiate apprezzato quelle che possono essere le dritte secondo il nostro metodo fish ok. Continuate a seguirci, siete sempre numerosissimi, vi ringrazio e niente, iscrivetevi al canale, spuntate la campanella e sarete avvisati delle centinaia di video che stiamo producendo ormai da un bel po', va bene? Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao!